Tragico lutto per Mediaset. Il terribile annuncio è arrivato pochi minuti fa. Prima di scoprire tutti i dettagli, ti invitiamo a iscriverti al canale e attivare la campanellina per non perdere i prossimi aggiornamenti. Purtroppo, la notizia ha colpito profondamente il famoso conduttore, che ha condiviso il suo dolore su Instagram, annunciando la morte della sua amata nonna Vilma. Il conduttore di Temptation Island, Filippo Bisciglia, è tornato sui social non per anticipare le vicende delle nuove coppie della prossima edizione, ma per dare un ultimo saluto alla sua nonna, accompagnando il messaggio con immagini che li ritraggono insieme. «Ciao amore mio, fai buon viaggio», ha scritto Bisciglia nel suo commovente addio. Lo scorso febbraio, nonna Vilma aveva festeggiato i suoi cento anni, un traguardo importante celebrato anche con il nipote Filippo. Bisciglia ha voluto immortalare quel momento con un video che testimonia il forte legame con i suoi nonni. In un'intervista rilasciata a TV Sorrisi e Canzoni, il conduttore aveva raccontato «Il pomeriggio andavo dai nonni, abitavamo vicini». «Sono stati fondamentali», aveva ammesso. Ti invitiamo a lasciare un commento per fare le condoglianze a Filippo. E ricorda di iscriverti al canale attivando le notifiche con la campanellina, per non perdere tutti i prossimi aggiornamenti. Grazie per aver guardato questo video. A presto con un nuovo contenuto su Febbre da Gossip.